Salve a tutti, voglio parlarvi oggi di un radione. Questa è una radio Marelli 7A96, prodotta dal 1941 al 1942, quindi in piena guerra. Nel periodo bellico già si cominciavano a vedere le forme di quelle che poi sono state le radio fino agli anni 50, cioè a fagiolone con questa struttura qua. La radio Marelli naturalmente era molto importante per l'Italia perché era una delle più grandi produttrici. Questa radio in particolare è stata restaurata, non da me, è stato rifatto l'impianto della scala parlante inferiore, è stata riparata l'elettronica, soprattutto perché che riguarda il condensatore, che sono i primi a soffrire durante l'età, e quindi è stata ritoccata, ritoccata nel senso riportata al funzionamento. Il padello posteriore è sempre stato assente, quindi manca assolutamente il padello posteriore, è stata trovata così. Come potete vedere ha un inserto di radio che è molto bello che ne evidenzia l'esteticità. Questa radio ha sette valvole, funziona a 220 volt e controlla queste lunghezze d'onda, medie, lunghe, corte A, corte B, corte C e poi il fonografo, se eventualmente veniva collegato. Le forme d'onda si potevano controllare per la ricezione da questo selettore. Molto pesante, molto ingombrante, il suo valore direi medio, si può trovare con facilità. Vi devo solo avere il posto per vedere in casa una radio come questa, quindi vi lascio con Marelli 7A96 e vi do appuntamento alla prossima radio. Grazie.